Benvenuta! Benvenuta! Grazie! Allora, la prima domanda è quella che farò questa sera un po' a tutti i nostri ospiti, cioè, si ricorda dov'era la sera del... mi sembra di essere un poliziotto... dov'era la sera del 9 novembre 1989? Lo ricordo, intanto chiedo scusa a tutti per la voce, stamattina era quasi assente. Ma è stagione? È stagione. Lo ricordo perché io ero davanti alla televisione, quando succedono eventi di quell'importanza e di quella portata storica, la televisione ti ci porta, quasi naturalmente, quindi io l'ho vista in televisione. Che impressione aveva in quel momento che stesse finendo un mondo, cioè, le sembrava una bella notizia, però con un retrogusto amaro di rischio, di instabilità, perché era comunque la fine di un equilibrio, no? Il mondo che fino a lì era stato in equilibrio andava a sbilanciarsi in quanto... Io credo che di aver avuto soprattutto una sensazione di sollievo, quindi una cosa positiva. Non mi sembrava che ci potesse essere in quel momento qualche nube che ci permettesse di dire sì, questo succede, però no. Cioè, c'era un popolo intanto che abbatteva un muro di divisione, per passare il quale molte persone erano morte. un paese diviso in maniera estrema dove le vite degli altri erano controllate. Il titolo anche di un famoso film. Che a me ha molto emozionato, bellissimo film, e che ti dà proprio la sensazione di che cosa vuol dire perdere la libertà. Sotto una dittatura, sì. Senta, la Germania si è reunificata facendo molto debito, però adesso i tedeschi non permettono a noi di farlo. Mi pare di poter dire che le situazioni sono diverse. Sì, se noi dessimo alla Germania una sorta di garanzia che riusciamo in pochi anni a unificare veramente ciò che non siamo riusciti a unificare in 170 anni, allora credo che si potrebbe, anche la Germania sarebbe più permissiva. Io non credo che siano paragonabili le due situazioni. E noi dobbiamo dire che l'unificazione della Germania, secondo me, pur con tutti i suoi problemi, è stata un atto di grande coraggio politico. Se ne è presa la resta... Ricordiamo un grande statista, tra l'altro è il McCoy. Che poi ha anche pagato, non solo per questo, ma insomma ci vuole visione, ci vuole lungimiranza. Questo l'ha fatto. Io credo che oggi è molto di moda criticare l'Europa. No, no, quello fu un gesto di visione. Però le dico, a proposito di visione, lei dice in Italia, nord e sud invece, non riusciamo a fare la stessa operazione da ben più di 150 anni. Ecco, in questi giorni c'è l'ILVA che proprio incarna in qualche modo il tema che stiamo trattando. L'ILVA è stata salvata una dozzina di volte, una anche dal governo di cui lei faceva parte. Non sarebbe stato meglio col senno di poi chiudere la fabbrica, come oggi chiedono anche, poi lo vedremo stasera, molti di quelli che ci lavorano, e investire in qualche settore produttivo diverso. Guardi, l'ILVA è un vero dramma. Il dramma che è un dramma macroeconomico, perché l'ILVA è molto pesante sull'economia nazionale. Lei sa che è un 1% del nostro prodotto interno lordo, ma è anche un dramma che si verifica ogni giorno a livello micro delle famiglie che vivono questo dramma, perché molte di loro sono state colpite con lutti, e che però hanno un lavoro, un reddito che dipende da quello. Guardi che è facile dire chiudiamola, e che cosa si fa con gli 8 mila dipendenti? E questa è la visione che stiamo cercando, un altro modello di sviluppo. Sì, io guardi, ho apprezzato ieri il presidente Conte, non mi succede molto spesso, devo dire, ma ieri ha avuto un atto di sincerità. Ha detto, non abbiamo la soluzione. Un governo, ma anche un presidente, che sembra avere una soluzione per ogni problema a portata di mano. Ieri ha avuto l'umiltà di parlare con le persone, persone che vivono situazioni molto difficili, e dire, non ho la soluzione. Però la politica, vorremmo quella adesso, senta. Le faccio vedere questo video del nostro programma dell'anno scorso, in diretta da una casa che lei conosce molto bene, casa sua. È difficile essere molto accurati, quindi spesso si rappresentano fenomeni complessi con una semplificazione che favorisce il gioco di cui parlavamo prima. Non ci siamo fatti mancare niente. Prima ci sono visti i nipotini e poi, insomma, ecco, c'erano i suoi nipotini. Che tipo di nonna è? Beh, secondo gli stessi nipotini è una nonna molto spesso assente. Mi dicono, ma dove vai? Ieri mattina io ero a Lucca e mi telefona, mentre stava facendo colazione il piccolino, su FaceTime, e mi dice, ciao nonna. Perché lei va con gli strumenti, se la cava bene con i sbarri? Beh, le telefonate FaceTime, direi che sono alla portata delle nonna. Io sono moribondo digitale, lo so, quindi le chiedo scusa, sono io il problema. Quindi mi fa molto piacere, qualche volta chiedo consiglio a loro sull'uso di, appunto, di telefono per andare su. Magari mi manda anche un messaggino, anche a me così imparo anche io qualcosa. Sì, e le app non sono sempre facili da usare, quindi i ragazzini con le app ci sono nati e sono il loro pane quotidiano. Quindi vedi i nipotini dentro lo smartphone? Assolutamente sì, quella è una gran cosa. Io penso, se mi lascia dire, c'era una mia zia, la sorella anziana di mio padre, che mi raccontava di quando la sorella della sua mamma, quindi il mio bisnone, era andata in Australia e avevano ricevuto una lettera in cui diceva, questa che era andata in Australia, ti prego, chiedi a tuo marito di farti fare una fotografia in modo che io possa vedere come sei cambiata nel frattempo. Questo dà un'idea di quale fosse allora anche la lontananza fisica e di come oggi, con un semplice strumento, che spesso demonizziamo perché ha anche tanti lati negativi, però possiamo avvicinare le persone. Quello ha abbattuto un muro. Però c'è un altro muro di cui voglio parlare, che è il muro delle generazioni. Per la prima volta, noi siamo quasi dei pionieri, perché per la prima volta nella storia dell'umanità gli anziani sono più numerosi e anche più ricchi dei giovani. Se lei oggi avesse 20 anni, cosa farebbe? Andrebbe a studiare all'estero? Farebbe la rider, porterebbe le pizze a casa? O ambirebbe a reti di cittadinanza? Beh, se avessi 20 anni e una borsa di studio, andrei sicuramente a studiare all'estero. E penso che questo non per sfiducia nel mio paese, nella nostra università, perché io ho passato la mia vita a insegnare all'università e direi che abbiamo anche delle buone scuole universitarie. Ma perché l'estero ti offre di più, più strumentazione, più contatti. E poi bisogna tornare però e lavorare per il nostro paese. Questo succede al contrario, che si studia qua e poi si va a lavorare fuori, perché il lavoro qua non c'è. Senta, mi consenta la battuta, ma per la legge Fornero, i suoi nipoti a che età andrebbero in pensione? A 123 anni? Considerando le progressioni. No, intanto una cosa che non viene mai detta, ma in quella legge una flessibilità che noi non possiamo tanto oggi permetterci, anche se ci sono quelli che dicono che ci possiamo permettere tutto, senza specificare che lo mettono a carico proprio di quelle generazioni future sulle quali noi piangiamo, ma in quella legge c'è già una flessibilità. Quando avremo intorno al 2030, purtroppo questa è la gradualità con cui facciamo le riforme, avremo questo metodo di calcolo delle pensioni che ormai tutti conoscono e che correla la pensione ai contributi, e la pensione si potrà prendere in funzione di considerazioni anche personali tra 63 e 70. Quindi non è vero che si condannano le persone a lavorare fino a 70 anni e non è vero che per molte persone il lavoro è una condanna ed è su questo che noi dobbiamo puntare, sul lavoro che non sia una condanna e che però ti permetta di vivere una vita dignitosa quando lavori e quando non lavori più. Sento, una cosa un po' più leggera. Lei ha raccontato che una sera Mario Monti venne a casa sua e lei gli cucinò un risotto, una battuta che pensavo gli facesse gli spaghetti Mari e Monti, però vabbè. Ora però le faccio vedere tre personaggi. Lei mi dice che piatto preparerebbe loro se li avesse a cena. Naturalmente la cicuta è esclusa, diciamo, come premessa. Il primo, eccolo qua, l'ha citato lei prima, è il presidente del Consiglio. Non potrei certo fare una pasta al presidente Conte, visto che è meridionale, è pugliese, quindi conosce benissimo la pasta. Gli farei un risotto al limone. Ho imparato a cuocerlo senza scuocerlo. Ah, risotto al limone, quindi un po' lievemente, un retrogusto acido. Al limone, sì. Invece guardi un po' quest'altro commensale possibile, è stato convitato, qui siamo a Firenze invece. Qui gli farei... No, 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 io gli farei una bistecchina, bistecchina impanata con le patatine al forno e due fagiolini. A due, sì. E poi gli mette anche il grandiu-vito, il codol, il bavaglino. E questo invece è l'ultima persona che suona alla sua porta per vedere a cena. Ripeto, la circuta non è, diciamo, un paio di possibili ingredienti. Gli farei una crema di zucca, per dimostrare che anche le cose più dure possono ammorbidirsi. Senti, parleremo adesso, volevo parlare anche della senatrice Segre, dell'odio, gli abbiamo parlato tanto in queste settimane. Le chiedo, ma lei nella sua vita, sinceramente, anche solo per un attimo, ha mai odiato quell'uomo che appunto ha fatto delle cose, sappiamo, è andato a fare un comizio sotto la casa dei suoi genitori, insomma, che l'ha un po' usata come simbolo di caratterizzatore di tutto un po'. Lei l'ha mai avuto nei suoi confronti? No, ma sa perché l'ho fatto? Per egoismo. Perché io ho capito, quando ho smesso di fare il ministro, che se io mi abbandonavo ai risentimenti, ne sarei probabilmente, mi sarei ammalata. E quindi ho detto, nessun risentimento. Guardare avanti, cercare cose su cui impegnarsi. Sì, mi sono impegnata molto con i giovani, con la ricerca, con la divulgazione. Parlo molto, loro dicono con il popolo, io dico con i cittadini. E' una difesa. E quindi io sono profondamente in disaccordo con Salvini. Ma ho la fortuna di non provare per lui quel risentimento che lui ha ispirato in molte persone. Mi trovo una curiosità, perché ho qui davanti lei, mi viene proprio da chiederlo, Salvini si era intestato quota 100, un po' come provvedimento quasi simbolo, insieme ai migranti, della sua presenza al governo. Adesso però lui non è più al governo. Secondo lei, perché il nuovo governo non ha tolto quella norma? Beh, perché, guardi, ogni tanto si dice che questo governo ha una vocazione al suicidio. Ma quella era la strada sicura. Perché è difficile, soprattutto... Cioè, noi abbiamo fatto una riforma severa in un momento drammatico per il Paese. E chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire. Salvini il testo. Oggi è stato fatto come sperimentazione. Gli italiani, tra l'altro, hanno mostrato molto più buonsenso del ministro, perché l'hanno vista come un'opportunità, ma non se ne sono appropriati come adesso o mai più. Molti hanno semplicemente continuato a lavorare. Io incontro oggi molte persone che mi dicono professoressa, io ho l'orgoglio di andare in pensione con la sua legge. Ebbene, queste non saranno la maggioranza, per carità, ma vuol dire che non c'era questa sensazione di essere chiusi, ingabbiati dalla legge Fornero. Queste sono le mistificazioni che lui ha creato. Il Paese, per fortuna, è più saggio, anche se ancora troppi gli vanno dietro. Io lavoro perché quei troppi si riducono. Senta, questi giorni, l'ho detto prima, la senatrice Segre, che era seduta dove lei la settimana scorsa, ha avuto una scorta, che è una cosa incredibile. Ormai facciamo digerire tutto, ma è una cosa incredibile. Dare una scorta a uno sopravvissuto di Auschwitz. Vabbè, ecco, lei ha vissuto, vive sotto scorta. Che effetto fa nella vita di una persona che non è abituata a questo tipo di attenzioni, chiamiamolo così? Al tempo stesso ti dà sicurezza, grande sicurezza, e ti dà anche imbarazzo, ti dà anche un senso. Io ricordo la prima volta che sono andata a Parigi, nel 2013, poco dopo che avevo terminato il mio ruolo di ministro, e camminare da sola per le strade di Parigi, anche se mi riconoscono anche lì. Ci sono molti italiani dappertutto in Europa. Ma cosa dicono quando la vedono così per strada? Qualcuno mi apostrofa, oggi sempre meno, spesso però oggi mi fermano per dirmi professoressa grazie, lo dico con estrema sincerità, e sono soprattutto i giovani a ringraziare. Ma quando qualcuno l'apostrofa, questo è bello che ci siano delle persone anche che hanno il coraggio di dire sentimenti buoni, ma invece quando c'è qualcuno che la ferma per criticare, lei si ferma a discutere? Io sì, io non mi sono mai sottratta a nessun confronto. E li convince? Perché sul web non funzionano mai questi dialoghi. No, io sul web non funzionano mai questi dialoghi. Ognuno rimane nella sua opinione. Dal vivo invece le opinioni cambiano. Sì, perché la gente ti può guardare negli occhi e può capire se stai dicendo la verità oppure se stai nascondendoti dietro qualcosa di precostituito. No, se guardi le persone negli occhi, il dialogo può essere vero. Le posizioni possono essere distanti, ma la probabilità di costruire un ponte di comprensione c'è. E quindi anche quando passano, io dico no, vuole fermarsi un momento che ne parliamo? E qualche volta succede. Qualche volta mi mandano. Bisogna avere una bella coraggio. Lei guarda negli occhi, guardi queste fotografie, dove la vediamo guardare negli occhi i poteri forti. Ecco qua. Questo è Tito Boeri, ex presidente IMSS. Poi abbiamo altre foto, ce n'è una, vabbè, questa è con Mario Monti. A proposito, mai perdonato a Mario Monti? Non lo facciamo rivedere perché ormai il famoso video delle lacrime che poi in realtà è del piccolo indugio che ha avuto. E la cosa incredibile è che lei non disse la parola sacrifici, ma lui guardandola in tradice la disse lui con un po' di freddezza. Guardi, anche questo fa parte della mia terapia. Va bene, ho capito. Poi andiamo all'ultima foto che è molto bella. Quella, quella è la Corrado Passaro, è qui, è con l'attuale presidente, Ursula von der Leyen. Qui eravate tutti e due ministro del lavoro. Che cosa ha di diverso, stasera ne parleremo anche con Lily Gruber, che cosa ha di diverso una donna in politica rispetto a un uomo? Forse ha meno consuetudine con il potere e siccome il potere comunque in genere crea appetito per ulteriore potere, l'abbiamo visto proprio con il ministro di cui parlavamo prima, che voleva tutto il potere, pieni poteri, si vede che pensava di essere onnipotente con i pieni poteri. e le donne quindi hanno da un lato un po' più di carica ideale. Non vanno al papete, diciamo, le donne? No, queste volgarità, no, no. In ogni caso... Non c'è questa... C'è meno, secondo lei, meno... C'è non meno ambizione, perché l'ambizione c'è ovviamente... L'ambizione c'è, ma c'è sicuramente un po' più di carica ideale, sicuramente un po' meno di cinismo. Molti considerano che la gestione del potere deve essere necessariamente cinica. Io l'ho conosciuta bene, la Ursula von der Leyen. Ho lavorato con lei su un programma di apprendistato, che poi è stato abbandonato ed era un ottimo programma, a proposito di cose magari piccole che possono contribuire a migliorare il paese. Credo che lei sia una donna veramente in gamba, lei non è una tecnica, lei è una politica. Che ne abbiamo bisogno. Una vera politica. Che ha una visione dell'Europa. Ha una visione dell'Europa. Io mi auguro che sono certa che ce la metterà tutta, sono fiduciosa che farà un buon lavoro e spero che non abbia troppi nemici, perché vede, oggi il mondo è interconnesso non solo sul commercio, ma anche nella gestione, lo era anche in passato, ma anche nella gestione del potere. E quindi molte persone nel mondo hanno interesse a indebolire l'Europa. E molte persone vogliono che l'Europa sia debole e noi glielo dobbiamo impedire, affermando i nostri valori. L'ultima domanda di fondamentale importanza. È vero che lei ha un debole per le creme di bellezza? Beh, diciamo che a nessuno piace invecchiare. Il mio ideale di invecchiamento è di invecchiare con dignità e quindi curare anche il proprio aspetto è importante. È vero, io mi compro delle creme sperando che facciano qualche effetto. Ma lei chiede i campioncini? Chiede i campioncini. Elsa Fornero quando va? Chiede i campioncini. Anche perché spesso vado via e con due campioncini risolvi. Vedi? L'economista, eccola qua. Elsa Fornero, grazie. Grazie davvero.